andiamo ad entrare c'è Danny e no Tisha ah no ma c'è un altro gioco all'interno un po' ammazza quelli che c'ho c'è un po' di sfide allora Tisha è al Bink Up ma è stato aperto così o si è sclose tutto c'è qualcosa qua e vino ma c'è di come? no superiore via oh cazzo questione? non c'è un arm usciavo posto di qualcosa oh ma c'è il liar salve non so se puoi uscire da qua ma ci si è rincastrato da solo? non so se puoi uscire da solo ehi colore ma come aspetta che questi qua entrassi da qua? non so se puoi uscire da solo no 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 quindi non odio direi non so se puoi uscire da solo ok 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 se puoi uscire da solo guardate le stasera lo stasera Certo? Se ti dare una linea direttiva con Lola, potresti darei più tempo per investigare? Sto ascoltando. Guarda, c'è una data blackouta, certo? Non c'è internet, non c'è nulla. Ma il nostro residente hacker, Ava, ha trovato data packets routi tra la Serling, CDC HQ, e la Rampgate building. Può che ci si tratta di ciò che il padre è messo in. Probabilmente. Ma qual'è questa hotline con Conrad? I got a code phrase. Look, you go to an OSK store and say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS. OSK store? Fuck! She's that Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild. All right, you're on. We're partners, okay? Anything we find, we share. Yeah, I was gonna say the same thing. Cool. Welcome to the Mushroom Club. Oh, non è una cosa. Bello quel disegno. Allora. Adesso ciò cosa da raccogliere. with. Allora, with. No, no, no. Allora. See. Allora. 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 Allora, allora. c'è ovunque non fa sapere che c'è lei lì usa una balestra ci sono dadi ovunque Washi non c'ha fatto l'ostore OSK l'ostore constant OS questo è per gli altri con il pieno i servizi bisogna riuscire dove sarebbero? i servizi sono qui bisogna fare un pass di staff cazzo ho schivato c'è lo stronzo lo scia me l'ho preso no ora si ma questo piano mi ci serve ma dici che qua dentro c'è ancora questa qua? quello? non so non vale con la ok chieda Henry e la sua chiave ma neve la sarà segnalata eccolo sconti Oh, una chiave! C'è un... cosa? Dov'è che è? Qua sotto... Io c'è in modalità fuori, tratta che ottengono un notevole aumento di danni e forza, ma procedo garantire anche la tua salute. Vabbè, ma là mi prendo il culo. C'è un... Ok, questa frase passaphrase non è una prank. Ortizia va a dire seriosamente p***a, Carla. Oh, OSK fanboys. Cliccatevi su interconnecettività. Oh, oddio quella che urla. Ma faccio più male quando faccio così. Morto. Allora, sconsorti, voglio. Non ne manco quella volta, Isa. Ma che voglio fare, non parlo ancora. Guarda. Oh, che cune. E' morta. Scolaccio, sconsorto. Ok. Ma pure le cose di questi. Finita? Oh. 12 Sambuca karaoke queens. Eschaton. Now. Theological. The end of the world. The end times. The final event in the divine plan. From the Greek root, meaning last. What the fuck? Conrad. Lola Conrad. I want to talk to her. Hey. I'm Dr. Reed. But you can call me Ruben. Noah. They told me there's something in my blood that... Yeah, yeah, shh, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Uh, okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? You just take some blood, or...? We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. Someone else is immune? Why would he read Tell Me This? Zephran, it didn't work. The level spike again. Frighted the whole rig. No, no idea. Mentre c'è sta discussione, il mio personaggio è fermo qui, che non può fare un cazzo. E gli zombie non vengono ad attaccare. You know what's at stake? Keep looking. I don't know what's at stake. What the fuck? I need to find this lab. Ah, notifico, immagine. A text? Okay, c'è questa via qua. Che se non sbaglio, se non mi ricordo male, praticamente dovrebbe essere questa squadra qua, forse. Ma c'è, io vado a fare la cosa e lui... eccolo con le api ho un bel cazzo per le guardie faccio che esplode faccio che esplode ma non c'è più che dici se continuo a coltire oh ma che sei scemo infatti non c'è il termine di fuoco non i fuori voi no aspetta qua chi era oh no il macellaio no e vabbè fa così e come immune vabbè fa culo intanto muovo il giro stesso qui o taci sua oh questi vengono a mattarli morto eccolo qua questa è la strada praticamente a chi vede questa qua la strada da qua che esci a qua picchia 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 sto cazzo ecco lì qua oh no c'è finita che fa raga certo lo devo toccare come che voglio passare già qua c'è più niente qua no c'è più niente qua no ok ecco un'altra salida la granata d'acqua cos'è? fulghi eh? non c'è più segreti doctor già la mia poi ho trovato la roba lì è da vendere per fare qualche di quella cazzo di sfida lì oh cazzo salve che cazzo salve cazzo salve cazzo salve oh cazzo cazzo salve cazzo salve controlla cazzo salve cazzo salve cazzo salve cazzo salve cazzo salve chi cerca trova ok minchia 3.000 contenitori e tanto cazzo salve 4.000 contenitori tanto eh allora ho tutte sfide che posso fare non farle in più mi danno anche roba così arve di insetti questo cos'è carne infetta è piena carne infetta è piena Perchè non so perchè è chiuso stare là qua? Allora qua casserizio 50% qua Perchè non c'è l'intero di vivo E' il mio turno di essere il scientifico sta diventando un piccolo tyrant mamma mia è incazzato pure lui oh c'ho questo fa che cazzo ah c'è morto? oh si padre nostro che stai nel cielo ah 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 just stay trust me this Zon Zon I'm here check the blood drive Grazie a tutti. 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 No, no, no. Grazie a tutti. Boh, non so come andrà finì, insomma. Vorrei che ci fosse un livello di karma o delle scelte che ti permettono di fare cose. Due finali vorrei. Uno con loro e magari uno con... nel caso di andarsi contro di loro, insomma. Sti cazzo di rumori. Dovele con la ricora della live, se non sbaglio. No, no, no. 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 35 per esecuzione, non lo so, quindi mi da un doppio spi la scendica l'avevo presa per vedere quanto andava veloce scontata, l'avevo presa, no, l'avevo presa Ruben e Tisha sono fuori da qui Sì, non c'è nulla, non c'è nulla Jimmy's trying to figure it out Oh, cool, wish me luck, I'm going in What's happening, Jimmy? You fucking piece of shit, I know what you did Hey dude, take it easy It's all in there, Ruben, Estet, Shatlin, whatever the fuck that is, and your name Over and over You all started the outbreak What? You fucking psycho! I don't know shit, he kept me in the dark too He told me they'd make a vaccine from my blood I just wanted to get the hell out of here He killed my city I should have put a bullet in him No! Estupido! We should have found out where he's gone I know where he's gone He's flown to some lab on Hollywood Boulevard Jimmy! What? Everyone's freaking out We need you out here We need you out here All right In a minute What should I tell him? You're an actor, right? You're Jimmy Montana Off the TV? So go act like you know what the fuck you're doing Yeah Yeah I'm Jimmy Montana Nine seasons on her badge Nine fucking seasons Hey! Shut your holes, you bitches! Jimmy Montana's in charge now! You tried, Carla But enough's enough Time to call it quits Emma? Emma Jaunt? It's me You there? Hello? Did your doctor get you out? Nope He fucked me over We're gonna make our own way There's a helicopter in Hollywood Boulevard And I know a pilot who's your biggest fan You gotta... Persuade him to fly Persuade him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creeps So you can fly out of here Hey, come on, man! You really think I'd ask that? He could get us all out You just gotta give him a pep talk He's been living in the sewers for like... decades Oh, that's splendid We'd have more chance on a magic carpet Everyone's fucked us The army, the doctor They're probably recasting you already I bet they are the wankers Okay, I'll meet him But no promises He's in the big sewer pipe by your house I'm leaving now Can't wait Oh, it's crazy I don't know what's going on I don't know what's going on Now, we'll probably get a bit dirty but nothing's too expensive Oh, but I'll need one special A loose person You must have it I've never put it to leave And I've never done it That man! Dividing out of all the stuff Oh! No! No! My turn Why do they have to touch that radio? And do you? Make your own 손 and kill your own men I I have had enough go here with you Andrea? Put that down and keep your feet from cover ow don't throw your shoe at me ha ha nice army oh sorry you think he's funny I got another juggler for you yes ow they sit on the couch all day ow I got the blood hey Andrea leave him and ow Jesus Christ no black baby ow come on Sam ow baby b**** get back here so I can't eat to eat oh oh ahah ma che c**o è mamma per chi ok back to Belair tisha and that gang of earth ma turned up nothing people are starving go out and get some then Gustavo ma ancora c'è Gustavo qua ma l'ho già presa? un battaglio pieno, non c'è presa questa allora un po' di roba questo è quello mio, si, penso no, non è mio io non la vedo questa non è mio perchè sennò sarebbe tutto così drago rosso 2620 il mio fucile invece anche questo qua è a livello 28 prendimi andiamo via questo qua cos'è questo qua ah vedi che il drago rosso è quello lì la polvere a sparo che salve sempre le armi cos'è questa? ah il drago di jade ci sono tanti potenziali katana fulgurante la uso anche se in un momento una ricarica rapida una ricarica rapida ok, secondo me e genera più furia Esplosione, colpire un zombie aprito, l'hanno fatti gli stati e mi esco una violenta esplosione. E tanto è quello col fuoco. Ma che cazzo... Ah, il drago di jungle, mettiamolo giù. Tutti amici, non posso stare attiva, poi, questo. Niente di squadra, vabbè, così. E si ha a testo, questo? Dice che non è lo sistemo, questo? Anche c'è un lato che fa il fuoco. Mettiamo acido qui, o elettrico. O di più rilante, ma perché mi dice che... Non è perdita perché va... È comunque raro. Scusa, no, che... Aumentare la velocità di ritardo. Ho un'esperienza. Quando uccidono i zombie... Cosa è questo? Ma che c'è di ritardo? La novità, c'è di ritardo, ovviamente no. Ho un piussatore, cosa sa? E' quello no, no. Almeno così ho cambiato. Era già quello di fuoco, metto questo di fuoco. Ok. Ok. Cioè, se io ho tipo delle missioni da fare, non c'è il modo. Non c'è più o sei neve, il modo. Dammi una qua a fare le altre. Ce ne sono? No, le 41. Amore, non c'è il modo. No, non c'è il modo. Tu, 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 tu. Fai il settimanale, dai? Allora Il diagono in posto Ma cosa sappiamo? Doppietta, non c'è nessun nome Ho potuto darli via Le mani da me le trovo in giro Ma perché? Quando modifici una cosa fa che si rompono anche le altre Guarda Non ha senso Per un attimo Dove avrebbe avvenuto qualcosa che io usavo, non apposta Sì Sopra Oh A new Emma? That'd take a miracle Miracles happen She came to this house, you know What? Really? We will be safe now For a moment I saw the old Emma Grazie a Dios But, uh, where is she? And Sam? Ah, you only just miss them After my chancla Well, they seem keen to live They're waiting for you at the sewers I don't know 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 If anything Transforms her That'll be it Well, may God watch over you all And whatever happens You will always be welcome At the Salazar residence Thank you, Madesita Can't say I care for Emma That's tasty books But What else is there to do? Clean? Ah Back to the sewers, then Emma, Sam, are you there? Hello? You read me? They can't have gotten far Yeah, yeah, I don't have all day I need a game Ah, quello che sputa I'm sorry Come on Here I get the name Come on Look at all the game Come this is He's going to hang out 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 And there Non c'è No c'è No c'è No c'è No c'è Ma è . 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 .. .. .. .. .. .. .. .. Oh man, man, c'è l'evole solo, man, c'è l'evole, c'è l'evole. Oh, c'è l'evole? Oh, c'è l'evole? C'è l'evole con noi prima. Andrea ha detto che vuoi fare una storia. Sì, beh... C'è l'evole chiede noi, ma... C'è l'evole, devo stare con lui. Hei, chi è lì? Patten, è Carla. È una sorpresa. C'è l'evole, ok? Oh, hey! Oh! Oh! Hello! C'è l'evole! C'è l'evole! C'è l'evole... C'è l'evole... Oh, non c'è l'evole. Non c'è l'evole. Call me Emma. Tap on. Patten. E io sono Sam B. C'è l'evole. C'è l'evole. C'è l'evole. C'è l'evole. C'è l'evole, a l'evole. Ce yang abbiamo bisogno è un piloti. Oh, non, 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 non. Tu sai Omen per la morte? Sì? Ricordi come Randy non potrebbe riuscire in un'auto dopo il suo crash? Ma poi, quando il monstero mi ha fatto, si tratta di un Camaro e mi salvare! È molto bello! Ho bisogno di essere il mio Randy. E essere il Randy per tutti noi. Ok, ok, sì! Sì! Io provo! Per te. Grazie. Penso che mi ricordo come volerci. Siamo a morire in una piazza. Molto sorrisi! Voi! Voi! Questa per la felicità! Grazie. Buongiorno, signor. Non preoccuparti. S extremamente. Voi pochissà! O perciò e a perciò, ragazzi! Sì. Cos'è l'esplosione? Sullearmi, esplosione? Questa? Ah, si? Cassa, Death by Daylight. Cos'è la leggo io? Piosi, l'ha Ehm, io? Ehm, io? No, no, no! Eh, io ci guardami, sguardo! Cazzo a far senza quello? Ah, io proprio voi mi servite proprio voi. Cos'è che è? 10 C'è una valvola Ok, 10 E 1 Devo fare 20 Che è questo E 2 Io poi devo fare 50 E questo Uh, salve Affanculo, stronzo Ma tutto di fuoco E' da tubo dell'acqua, anche senso Apre questi Boom Quindi per di qua che faccio? Volo? Oh, c'è un modo per andare di là Ok E questo è il rumore Ma che c***o? Ok 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 E' tipo un rumore di zombie pesante, cioè Oh Oh Merda Manco perché l'ho fatto sinceramente No No Non ciò manco entrato Pico Boh Oh no Non c'è perché c'è Un qualcosa Niente 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 Oh ma è andato a dare il fucile lì? Un fucile pure qui Allora, questo spara dove? Perché c'è la batteria qua? E lasciala giù, no? No Davanti c'è un fucile avanti, scommetti Eccolo Questo è giusto da vendere Eh, lo sapevo Ok Andiamo avanti Porca proia Eh Mentre il resto? Sì C***o Sì volendo adesso volevi con questo c'è uno sentra di lì motiva sicuro c'è shottato da dire questa è una luce bella magari sta luce qua fa più luce di quella che c'è io ecco c'è effolo io sento bloccando per ciò sta stronzata la vita di otto poi sia guarda di solito sta abilità qual è questa qui no no di otto facesse solo questo se ti vedo no vedo solo quella beh guarda qua c'è una x non so cos'è no è vivo no possibile porca miseria il problema è che se non togli ma cazzo c'era questo ma certo mi aspettate un attimino si sta spegnendo più o poco si sta spegnendo c'è carburante lì ok 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 macellaio feroce spacco il braccio chiamare amico bambini c'è il braccio aspetta c'è il braccio il braccio è inaudite tu dovresti mantenere loro sicuro, Sam Ehi! Ah, mi ha fatto! ma cos'è che c'è qua? c'è un ragazzo mi so basta c'è più niente ma c'è un'altra farina c'è quella che urla no penso che io devo andare indietro immagino ci vanno da dove sono stati noi un attimo e riprendo non 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 non